Noi abbiamo operato per ripristinare condizioni ordinarie di decoro, di pulizia, di sicurezza, di funzionalità in brevissimo tempo. Ma il nostro obiettivo è molto più ambizioso, fare in modo che il cimitero comunale rappresenti un po' il fiore all'occhiello della nostra città. Dopo lo stop causa Covid riprendono quest'anno le celebrazioni pubbliche in occasione della commemorazione dei defunti. Prime celebrazioni da sindaco ad Afragola per il neo eletto Antonio Pannone, che ha partecipato alla messa in suffragio dei caduti di guerra e deposto una corona dall'oro al cimitero, alla presenza dell'onorevole Pina Castiello, di alcuni consiglieri comunali e di diversi cittadini. Un momento importante perché la comunità va ad attingere alla fonte della propria identità storica, sociale, culturale e il culto dei defunti rappresenta ancora un momento molto sentito dalla nostra comunità. L'abbiamo visto in questi giorni di grande afflusso, il calendario ci è venuto incontro perché i visitatori si sono distribuiti attraverso più giornate, a partire già da venerdì scorso, in pratica, sino ad oggi. E noi abbiamo operato per ripristinare condizioni ordinarie di decoro, di pulizia, di sicurezza, di funzionalità in brevissimo tempo. Molti afragolesi hanno apprezzato il restyling che si è avuto in questa occasione, come sarà possibile garantirlo tutto l'anno? Un restyling fatto in pochi giorni che deve essere da monito e da sprone per continuare lungo questa strada. Molti servizi vanno organizzati, razionalizzati, quindi con un nuovo approccio anche di metodo, motivando, incentivando i dipendenti comunali, consentendo nel rispetto delle misure vigenti, anche delle future procedure concorsuali, l'arrivo di altre risorse umane che potranno concorrere a qualificare sempre di più il volto concreto dell'amministrazione, che è fatto di interventi, di vicinanza, di umanità, perché la struttura comunale non è una macchina che risponde soltanto a dei comandi, è una comunità che deve essere messa in grado, in tutte le sue articolazioni, di rendere al meglio al servizio degli afragolesi. Erano presenti molti consiglieri comunali eletti, come ha ricordato lei stessa, si sa qualcosa sul giuramento che verrà per loro? No, noi attendiamo, come prevede la norma, la proclamazione da parte dell'organismo competente e credo che nei prossimi giorni, completato l'iter di verifica di tutte le liste che si sono presentate alle elezioni dello scorso mese di ottobre, si potrà procedere alla programmazione e poi, come prevede la norma, a partire dal tour, dal testo unico degli enti locali, verrà convocato il primo consiglio comunale per la convalida e per tutti gli attempimenti, vi compresi l'elezione del presidente del consiglio comunale e dell'ufficio di presidenza. Cosa sull'aggiunta invece? Ribadisco quello che ho già detto più volte, sto operando di concerto con i gruppi e anche le forze politiche che hanno affiancato il percorso vincente di questa coalizione affinché si opere un sapente dosaggio di competenza, professionalità, ma soprattutto passione civile, dedizione, voglia di impegnarsi e quindi anche una spiccata sensibilità politica che serve in una fase così delicata che è quella del rilancio e della ripresa per tutta la nostra comunità dopo circa un anno e mezzo, come ho ricordato dinanzi al monumento ai caduti, dopo circa un anno e mezzo di sofferenza e anche di mobilismo per certi versi sul piano amministrativo connessi all'incidenza della pandemia.